Sono due ventunenni i fermati con l'accusa di omicidio per l'uccisione di Luca Sacchi, ammazzato con un colpo d'arma da fuoco nel quartiere Colli Albani, mercoledì 23 ottobre a Roma. Gli imputati sono stati fermati dopo che un parente ha avvisato le forze dell'ordine. Uno di loro avrebbe precedenti per droga, l'altro è incensurato. L'omicidio ha sconvolto il quartiere romano. Luca Sacchi, 24 anni, è stato ucciso mentre passeggiava tardasera con la fidanzata Anastasia. Si profila l'ipotesi che la coppia avesse dato disponibilità a comprare droga dai due ventunenni che si sono allontanati e poi sono tornati cercando di scippare lo zaino della ragazza. Luca è intervenuto per difenderla ed è stato ucciso da un proiettile alla testa.